Oh, il dolce suono del silenzio. Non capita mai di sabato mattina. Gli altri dormiranno ancora. No, un attimo, sono le dieci. Come mai tanta pace a quest'ora? C'è nessuno? Ehi, ragazze! Ma c'è qualcosa che non va con le... Ma cosa? Sembra ok, ma è meglio controllare. Ragazze, 36, niente febbre. Rilasciamolo, è a posto. Qualcuno mi spiega per piacere che sta succedendo. Non hai sentito? Stamattina la nostra casa è stata infestata da un virus estremamente contagioso. Contagioso, o come si dice comunemente, dall'influenza. Con 13 loud stipati in 360 metri quadri, se uno si ammala il contagio è garantito. Questa non è una banale influenza, qui si parla di una terribile apocalisse zombie. Il primo virus è stato isolato sui lori. Hai la febbre, signorina bella? Te ne devi tornare subito a letto. Faccio! Buongiorno! Mamma! Lana sta bevendo dal cartone! E adesso è tossito su di me! Ok, i soli sopravvissuti siamo tu, io, Lenny, Luan, Luna e Lucy. Aspetta, Lucy sembra infetta! Non corretto, io sono sempre così. Se vogliamo vedere un nuovo giorno, sul che rischio di dare inizio al protocollo fuga appena possibile! Io ci sto! Loud sano a rifugio sicuro, qui epidemia di livello 4. Influenza, Lincoln, dimmelo sinceramente, lori ce l'ha fatta! Ah, negativo. Perché? 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 Scusa, so che non posso permettermi il lusso di piangere ora. Allestirò tutto il necessario, brande, forniture medicali e i miei brevettati pasti salutari. Quanti superstiti! Siamo sei! Facciamo cinque. Ragazzi, no! Non è affatto come state pensando! Ah, 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 ah! Sul che sto infecco! Mandatela fuori! Sentite, non pensate che dovremmo occuparci dei malati? È pur sempre la nostra famiglia! Niente affatto! È troppo tardi per loro, ma non per noi! Forza, gente! Tutti fuori, senza indugi! Aspettate! Non possiamo uscire senza dotarci di una protezione adeguata! In caso di attacco, questo intruglio rallenterà il contaminato! Sa di zuppa di pollo! Questo perché è il zuppa di pollo! Io non so se... Caricate le armi, ragazzi! Stiamo attenti! Possono essere ovunque! Luna, a ore tre! Lisa, a ore sei! Beccati questa ciumpà! Lenny, a ore nove! Lincoln, cerca di deciderti! Vuoi dirmi che ora è? No, ce l'hai di fianco! Vuoi un faccioletto? Lincoln, ma dove ce l'hai il cuore? E tu dove hai il cervello? Stiamo cercando di salvarci qui! Ragazzi, aiuto! Evacuare! Pensa, Lauda, hai visto milioni di film di zombie! Aspetta, ci sono! Oh no, Lincoln è uno di loro adesso! E allora... Mettilo giù! Sto cercando di mimetizzarmi! Andiamo, è l'unica scappatoia! Oh, sembrano così malate! Caramelline per la tosse?